Chi pensa possa essere il suo avversario di centrodestra alle regionali, eventualmente dovesse vincere queste primarie? Io le previsioni del futuro non le faccio. Dico solo che non mi meraviglierei se non fosse nessuna delle persone delle quali si parla, che ci fosse una sorpresa. Dubito che il centrodestra metta docilmente la testa sul ceppo, come qualcuno del centrosinistra pensa. Io credo che si batteranno fino alla fine. Raffaele Fitto sta dando la misura della sua intelligenza politica e sta dando anche la misura della sua combattività. Se il progetto di Raffaele Fitto nel giro di quattro settimane o in qualche mese dovesse accendere nuovamente l'entusiasmo della destra, sarei curioso di vedere l'entusiasmo dei tanti aspiranti candidati alla regione che fine fa. Maschituli non corre da Presidente? Corre, la che cosa non è la cosa.